Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Questo pomeriggio si è verificato un altro grave incidente lungo le strade della provincia di Arezzo, nella provinciale che dai chiali in porta ad indicatore. Ancora un grave incidente lungo le strade della provincia di Arezzo. Uno schianto nel pomeriggio si è verificato alle porte della città. Il violento impatto lungo la strada provinciale 21 tra i chiani di indicatore nei pressi dell'interporto nel quale ha perso la vita un uomo di 56 anni. Uno schianto frontale tra una Porsche e una Skoda Fabia, un urto violentissimo. La Porsche a seguito dell'impatto ha finito la sua corsa a decine di metri. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza con un'automedica e quattro ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia municipale. In volo anche l'elissoccorso Pegaso. Perite gravemente anche altre due persone. Una donna di 50 anni che è stata trasportata con l'elicottero in codice rosso all'ospedale di Careggi e un 25enne trasferito invece da Pegaso 2 alle scotte di Siena. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della tracciato della E78, il progetto in questione, come noto è quello della Due Mari, per la realizzazione della quattro corsie nel tratto Aretino, San Zeno, Arezzo, Palazzo del Pero. Nei giorni scorsi molti cittadini avevano scoperto che proprietà o parti di proprietà potrebbero essere espropriate a breve. E adesso è nato così un comitato spontaneo dei cittadini di Via Salvatori e delle zone vicine in merito a questo tema, coinvolgendo anche dei professionisti. Il primo incontro è in programma per questa sera alle 21 nel Cassa di San Marco di Via Romana. Una condizione analoga è quella degli abitanti che sarebbero coinvolti nella costruzione della bretella, San Zeno, Le Poggiò, Le Chiani, i comitati sarebbero già intenzionati ad andare avanti in sinergia. Ed è un giorno di dolore nell'industria retina, infatti morto all'ospedale San Donato di Arezzo Pasquale del Tongo. Aveva 83 anni, era malato da tempo. Assieme alla fratello Stefano, già scomparso nella 2016, fu fondatore del mobilificio del Tongo, chiuso nella 2018 ma per anni famosa azienda di cucine componibili. Il marchio, dall'82 al 91, fu poi sponsor principale di una delle più apprezzate formazioni professionistiche di ciclismo. La famiglia del Tongo fu nota alle cronache per la vicenda legata al rapimento del figlio di Pasquale del Tongo Francesco, che all'epoca era solo un bambino. I funerali di Pasquale del Tongo si svolgeranno domani, 10 maggio, nella chiesa di Spogliano, Civitella in Valdichiana, alle 15.30. Ancora un salvataggio in città da parte della patrona di Prada, Patrizio Bertelli, che adesso ha acquistato l'edicola di Piazza Sai Jacopo. 19 ottobre del 1953, era lunedì. Sono passati 70 anni dall'apertura dell'edicola di Piazza Sai Jacopo nel cuore del centro storico di Arezzo, una storia lunga decenni che adesso potrà proseguire grazie al patron del gruppo Prada, Patrizio Bertelli. Questa è la prima edicola, in piedi, neanche seduti se stava, la seggiola era qui dietro. A portare avanti l'edicola per decenni con amore ed edizione, Piero Scartoni. Ho perso la famiglia per stare all'edicola, sono sotto processo un caso. Cosa le ha dato però queste edicole ai suoi clienti? Sì, lo faccio con passione perché no, non sarebbero tanti anni che sto qui. Un amore quello per il suo lavoro che ha attraversato molti cambiamenti, non ultimo l'avvento del digitale. La carta profumo, so toccarla, è già un godimento. Non sanno cosa perdono a non leggere un quotidiano. Negli anni il chiosco è così diventato un autentico punto di riferimento cittadino, un luogo di ritrovo e scambio di opinioni. Sono sempre al top. Tutte le mattine vengo a prendere il giornale. Alla soglia dei 90 anni Piero Scartoni ha però sentito di dover mollare, ma prima di cedere l'attività ha espresso il desiderio che la sua edicola non sparisse. A tendergli la mano Patrizio Bertelli che con ulteriore gesto di attenzione per la città che 77 anni fa gli ha dato i Natali ha salvato un altro luogo iconico che rischiava di andare perduto. Perché leggere qualche cosa nel computer non è la stessa sensazione di leggere la carta, sporcandosi anche le mani. Parliamo di sanità. La centro chirurgico toscano, la prima operazione con la chirurgia robotica per quanto riguarda la protesi al ginocchio. Si chiama Rosa, non è una signora, è un robot. È il primo intervento di protesi di ginocchio fatto al centro chirurgico toscano qui di Arezzo con il robot Rosa. Non è il primo intervento nel mondo, per carità. È la modernità, è il nuovo che avanza. Le nostre telecamere oggi nella sala operatoria del centro chirurgico toscano per raccontare la prima operazione di protesi al ginocchio realizzata con un nuovo strumento robotico diventato l'alleato dell'equip di ortopedia. L'ortopedico che lo volesse utilizzare deve necessariamente fare un corso dedicato all'utilizzo di questo robot. Cioè non è che la mattina uno si sveglia, anche ortopedico esperto, e decide che quella mattina opera col robot. Lo può fare, ma solo dopo che ha avuto un'adeguata preparazione, come oramai è logico che si debba fare in tutti i campi del sapere, in tutti i campi del lavoro. Definito ormai robot in camice bianco, questa tecnologia che affianca il chirurgo consente di migliorare la pianificazione dell'operazione chirurgica e quindi l'intervento stesso, con importanti benefici, soprattutto post-operatori per i pazienti. I protesi di ginocchio noi ne facciamo circa 600, forse 700 l'anno. Con l'ortopedico, il paziente e i ferri chirurgici. Il robot aggiunge un altro protagonista che rende l'intervento più preciso, direi anche più semplice, leggermente più lungo come i tempi di esecuzione. Tutto non si può avere, però è indiscutibilmente il futuro della chirurgia del ginocchio, ma più o meno di tutta la chirurgia. Questo è lo stesso robot, però con software diversi che è ancora la ditta che lo produce, che è la Zimmer. Penso sia la più grande, anzi senza altro, la più grande azienda mondiale di protesi ortopediche. Dicevo, quando la Zimmer ha in preparazione, penso che lo avremo nei prossimi mesi, software per operare con lo stesso robot, anche le protesi di Anca e quelle di spalla. Nel caso delle protesi di spalla, credo proprio che saremo i primi in Italia. Ci spostiamo adesso in Valdichiana, Cortona, dove sono state celebrate le eccellenze del territorio, la Chianina e il Siram. Cortona celebra il buon vivere e le sue eccellenze, i grandi vini della Cortona Doc e la Chianina IGP, protagonisti assieme all'aione dell'evento Chianina e Siram, che si è svolto tra il centro convegni Sant'Agostino e il teatro Signorelli. Cortona è sempre più presente alla riscoperta dei suoi veri prodotti tipici, che sono il Siram, oramai diventata una eccellenza, abbinata alla Chianina. Abbiamo comunque anche altre due eccellenze che si stanno muovendo nel territorio cortonese, che sono sicuramente la riscoperta dell'aione e anche l'olio a questa vergine di olivo, con la prima edizione nel passato anno di Novolio. Quindi come amministrazione ci stiamo impegnando sempre di più nella valorizzazione delle nostre eccellenze, che sono sicuramente un ottimo riscontro e un ottimo ritorno a livello turistico da un punto di vista enogastronomico. In passarelli, grandi sire italiani a rappresentare 40 cantine, più una selezione dal Rodano, ma non solo vini anche alta cucina, 50 gli chef presenti a Cortona, di cui ben 12 stellati. A firmare la Kermest Terretrusche Events, in collaborazione con il Comune di Cortona e Cortona Sviluppo, assieme al Consorzio Vini Cortona. E noi bisogna sempre più valorizzare le nostre eccellenze con incontri e pubblicità e manifestazioni, perché solo di cultura non si vive e alla cultura bisogna abbinare anche questa riscoperta del territorio. Vive il sirà, si beve tutti! Grande la ciccia il sirà! L'iniziativa rivolta ai più giovani, ai bambini, ma anche destinata al calcit, una giornata di sport e solidarietà al Parco Pertini, in programma per domenica 14 maggio. Un'intera giornata di sport, salute, spettacolo e solidarietà, che avrà tra i protagonisti anche Geronimo Stilton, il topo scrittore, giornalista ed editore più amato dai bambini. Noi giriamo il mondo, giriamo diverse città per supportare le attività associative del terzo settore in Italia, del luogo, come ad Arezzo. Non leviamo, diciamo, l'identità cittadina, anzi la supportiamo, con Geronimo che arriva da Topazia e fornisce il suo aiuto. Sarà dunque una vera festa, quella organizzata per domenica 14 marzo, che animerà il Parco Pertini, con la manifestazione Un sorriso per Arezzo. Le Acli hanno in qualche modo cercato di creare una giornata insieme alla Fondazione Geronimo Stilton, in cui chiaramente c'è anche l'attore e soprattutto la scrittrice che sarà presente. Poi ci sarà la Polizia di Stato con i vari mezzi e con le varie manifestazioni che farà all'interno del parco con delle esercitazioni, c'è il robot antisommossa, c'è il gruppo della squadra cinofili, c'è la polizia scientifica e poi chiaramente ci sono anche mezzi attuali, mezzi storici all'interno del palco in cui i bambini chiaramente potranno comunque avvicinarsi. E poi la cosa più bella è che non è solamente una manifestazione dove ci sono delle esposizioni, ma è possibile invece essere attivi perché insieme all'OS Acli e al gruppo CSI ci saranno delle attività sportive dove i bambini gratuitamente potranno giocare tutta la giornata. Entro venerdì mettendo insieme quello che vediamo, cioè il tempo e quello che le informazioni meteo ci possono dire, daremo conferma se effettivamente ci sarà il 14 come al momento è confermato oppure se il meteo ci consiglierà di spostarlo. Questo perché? Perché è non un evento spot ma è un evento di significato quindi lo vogliamo fare nel migliore dei modi e se dovesse esserci un tempo avverso lo faremo più avanti. Il simpatico topo, direttore dell'Ecco del Roditore, sarà presente anche con un gazebo della fondazione dedicata ai libri di Geronimo Stilton, disponibili a fronte di una donazione di 10 euro il cui ricavato sarà devoluto al Calcit in città allo stesso giorno con il suo mercatino per il progetto scuro. Abbiamo 250 banchi che partono dalla stazione fino all'incrocio via Crispi per un chilometro e mezzo circa perciò sarà comunque una bella presenza. Oltretutto quest'anno ho visto tra le iscrizioni che sono tornate diverse scuole e diverse famiglie con bambini. È la quinta MC1 del liceo Piero della Francesca, la classe vincitrice del Premio Europa 2023, un riconoscimento la cui istituzione è stata deliberata nella 2021 dalla giunta a Ghinelli in memoria di Donato Palarchi, Cavaliere della Repubblica, fondatore nel 1971 del Circolo verso l'Europa. È precursore di una visione europea della politica e dell'Europa come una casa comune dei diritti e delle opportunità. La consegna del premio, che consiste in 2.000 euro da utilizzare per l'approfondimento della conoscenza dell'istituzione e delle politiche dell'Unione Europea tramite l'acquisto di materiale didattico e la realizzazione di iniziative formative, si è svolta questa mattina nella sala del Consiglio Comunale. E il coro Mani Bianche e Voci in Canto, invece, è stato al centro di una masterclass alla CAMU. Solidale, inclusivo ed integrato, il coro Mani Bianche e Voci in Canto è nato per fornire l'occasione di fare musica affiancata alla LIS, la lingua italiana dei segni. La CAMU, la Casa della Musica di Arezzo, ha così ospitato la masterclass di Gianna Iori sulla creazione, la gestione e la direzione del coro Mani Bianche. È proprio una masterclass e quindi abbiamo i direttori della scuola per direttori che si stanno cimentando in questo momento nel dirigere il coro. Abbiamo fatto una prima parte teorica dove abbiamo parlato della gestione di un coro Mani Bianche che è un coro integrato ed inclusivo e ora stanno mettendo in pratica insieme ai nostri coristi cosa vuol dire insomma dirigere questo coro. Abbiamo fatto vari brani, sono tutti questa volta dedicati, ho scelto tutti i brani dedicati a poesie famose, di Pascoli, d'Annunzio, Piumini, proprio messi in musica in modo che fosse un programma anche interessante per il nostro coro che è formato da coristi dai 6 ai 80 anni. Volevo far vedere agli studenti del corso di direzione della scuola della fondazione che cosa significa questo progetto inclusivo in cui persone di tutti i tipi con disabilità e con abilità si incontrano attraverso un progetto musicale che ha come primo obiettivo l'incontro e la consonanza e l'armonia tra le persone. Alla casa dell'energia di Arezzo invece una mostra fotografica tutta la femminile che vuole indagare il rapporto tra natura, uomo e arte. Il focus e l'obiettivo anche di Panism e di questa mostra è dire l'uomo è ancora necessario alla natura, fa ancora parte della natura, sono due entità separate oppure un'entità unica, cosa possiamo fare per salvare il mondo? Parte da un'indagine tra uomo, natura ed ambiente la collettiva fotografica di 5 artiste a retine nata da un'idea di Fabio Mori. Una mostra di grande livello anche proprio come composizione, ovviamente ha un tema dietro che è il tema della sostenibilità e della natura che guida poi tutto il filone di casa dell'energia. In particolare la figura della donna, quale figura più giusta potrebbe essere deputata a far riavere quella connessione tra uomo e natura che noi oggi abbiamo evidentemente perso, basta vedere quello che sta succedendo a livello di impatto ambientale. E questa è una mostra che torna a livello ancestrale sul rapporto uomo-ambiente, però curata attraverso tutte le mani femminili che poi esse stesse sono appunto il tempio della fertilità e quindi della continuazione della nostra specie. Una mostra fotografica tutta al femminile, visitabile per tutto il mese, in esposizione gli scatti di Andrea Lisa Papini, Silvia Pannella, Mara Giammattei, Flavia Grammaccioni e Susanna Caperdoni. C'è anche l'intento di un po' appunto mettere in discussione sicuramente l'antropocentrismo che connota la nostra società, la nostra epoca e di conseguenza anche tutto ciò che ciò porta con sé appunto a partire ovviamente dalla tematica ambientale, del cambiamento climatico e sicuramente anche un po' le lacune umane, i limiti che abbiamo come specie. Parliamo adesso di Giostra della Zara Cino, torna giovedì 11 maggio alle 21, il tradizionale incontro per illustrare i soggetti a cui saranno dedicate le lance d'oro delle ormai imminenti edizioni della Giostra della Zara Cino, organizzata dalla società storica retina d'intesa con i quartieri a rotazione, iniziativa quest'anno in programma nella sede del quartiere di Porta Santa Andrea. Ad illustrare la figura del pittore Luca Signorelli, a cui è dedicata la lancia di giugno, sarà la storica d'arte Liletta Fornasari. A ripercorrere invece quella del gioco del calcio ad Arezzo sarà Luca Stanganini. Alla società Amaranto è infatti dedicata la giostra che i quartieri si contenderanno in Piazza Grande nell'edizione di settembre. E ancora calcio, passiamo alla pagina dello sport. Arezzo Gianna e Arminio sarà la prima partita della triangolare della Pulla Scudetto che si giocherà domenica 14 maggio alle 16. Lo ha stabilito il sorteggio di stamani presso la Lega Nazionale di Lettanti. In caso di vittoria, gli Amaranto torneranno in campo. Domenica 21, Pineto, in caso di pareggio o sconfitta, giocheranno il 14. Gianna, Arminio e Pineto inseguono entrambi la triplete, visto che oltre ad aver conquistato la promozione in Serie C, sono pure arrivate alla finale di Coppa Italia di Lettanti, prevista per il 27 maggio. Al minitorneo sarà messo in palio il titolo di campione d'Italia di Lettanti e partecipano le vincenti dei nove gironi di Serie D. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie.